L'avvento di carità proposto dalla Caritas, poveri, profughi e terremotati al centro dell'attenzione, in diocesi raccolti circa 59 mila euro per le popolazioni del centro Italia. La parrocchia di San Siro e Santa Margherita Ligure in festa per l'inaugurazione delle nuove opere parrocchiali. Domenica il taglio del nastro di un'opera attesa da anni. Il ministro Pinotti in visita allo stabilimento Fincantieri di Riva Trigosa ha inaugurato una nuova area per la meccanica e dato avvio alla fresatura per le nuove commesse inserite nella legge navale. Moneglia sceglie la nuova sede del mercato. Domenica ai seggi gli elettori avranno due schede. Oltre a votare per il referendum costituzionale, sceglieranno dove sistemare i banchi. Diminuiscono le nuove diagnosi da HIV in Liguria, ma cresce il numero di adolescenti e giovani che contrae il virus. I dati illustrati dall'ASL4 in occasione della giornata mondiale contro l'AIDS. Buongiorno a tutti, ben ritrovati al TG13. Come tradizione nel tempo di avvento la Caritas Diocesana propone un tema di riflessione ed un progetto che dia sostegno alle tante realtà a servizio delle persone che versano in situazioni di difficoltà. Nella terza domenica d'avvento saranno raccolte offerte a sostegno delle persone più povere. Caritas invita anche ad una sempre maggiore attenzione per l'accoglienza dei profughi e il sostegno alle popolazioni terremotate. Nella colletta nazionale per le popolazioni del centro Italia sono stati raccolti quasi 59 mila euro. In questo fine settimana dalla Liguria partiranno due volontari per un gemellaggio avviato con la Caritas delle Marche. I tempi forti dell'anno liturgico sono particolarmente indicati dalla Caritas Diocesana come periodi in cui riflettere e proporre dei progetti concreti di aiuto ai bisognosi. Per l'avvento 2017 Caritas è partita dall'immagine del bambino avvolto in fasce chiedendo di riconoscerlo nei poveri che abitano accanto a noi. Il Natale è proprio un tempo nel quale noi andiamo a sentire tutta l'umanità di Gesù perché questo bambino si pone proprio nella fragilità e nell'umanità più piena e però al tempo stesso noi contempliamo dentro questo bambino già anche tutto l'aspetto della risurrezione e tutto l'aspetto della vicinanza all'uomo e soprattutto ai poveri. Nel fascicolletto distribuito alle parrocchie si riflette su temi urgenti le necessità quotidiane dei servizi ai poveri, l'accoglienza diffusa dei profughi in diocesi, l'aiuto ai terremotati del centro Italia. Nel corso della colletta indetta il 18 settembre dalla CEI in diocesi sono stati raccolti 58.970,70 euro che sono stati versati alla Caritas italiana per i terremotati. Contemporaneamente si stanno avviando i gemellaggi che vedranno anche la Liguria impegnata in un'esperienza di accompagnamento per progetti di ricostruzione e riabilitazione socio-economica nella diocesi di Camerino. Partiranno questo weekend le prime due persone che si fermeranno un po' più di un mese nella zona di Macerata e per tre o quattro mesi andremo a seguire con degli operatori mensilmente il lavoro con la delegazione Marche e poi partiremo con altri volontari. Per adesso quello che ci è stato chiesto è stata la presenza di operatori che sappiano già un po' progettare il lavoro di ascolto con le persone. Veniamo in ambito diocesano domenica pomeriggio alle 16.30 nella parrocchia di San Siro a Santa Margherita Ligure ci sarà la festa per l'inaugurazione delle nuove opere parrocchiali un momento molto atteso da tutta la comunità. La ristrutturazione con parziale ricostruzione delle opere parrocchiali di San Siro era un'opera attesa da tempo. La comunità parrocchiale del popoloso quartiere di Santa Margherita Ligure si ritrova oggi per il catechismo e gli altri appuntamenti nelle due sale fra la chiesa parrocchiale e la sacrestia. Il progetto era stato sognato da Don Franco Stanchi che ha guidato la parrocchia per 14 anni ed è mancato nel 2012. Ora è giunto a compimento con la conclusione dei lavori. Il desiderio era da tanto che ci accompagnava ancora prima quando c'era Don Franco e ora in questi ultimi due anni abbiamo fatto i lavori e adesso l'inaugurazione. Che cosa ospita la struttura? La struttura ospiterà il cammino del catechismo e tutte le opere parrocchiali momenti di incontro e di formazione per tutta la comunità. Quanti sono i piani? Sono due piani e diventano otto sale per il catechismo, per le assemblee e per i momenti di comunità. Al piano terra ci sarà il locale per la segreteria e l'accoglienza, le sale per gli incontri ed il catechismo, i servizi ed una terrazza ai piani superiori. In questi giorni vengono terminati gli interventi e vengono sistemati gli arredi. I lavori vengono finanziati grazie ad un contributo della Chiesa Cattolica tramite l'Otto per Mille e con il sostegno fondamentale di parrocchiani e benefattori. Domenica ci sarà la cerimonia di inaugurazione con la festa. Il programma sarà domenica 4 dicembre alle ore 16.30 con la presenza del nostro Vescovo Monsignor Tanasini, la preghiera di benedizione, l'inaugurazione e la festa tutti insieme. Tutta la comunità è invitata a partecipare a questo momento di festa? Certo, tutta la comunità è invitata a partecipare, ma anche tutti gli amici, tutti i benefattori, tutti coloro che ci hanno sostenuto in questa opera e che ci devono ancora sostenere per il futuro. Che segno è per questa parrocchia, potersi poi ritrovare in questa casa così a lungo attesa? Un segno che ci fa riscoprire la bellezza dell'accogliere, di riscoprire la gioia del Vangelo. Ecco, questa casa al centro ci sarà la parola di Gesù, quella parola che dobbiamo spezzare con le persone che ospiteranno questa casa. La politica amministrativa, una notizia che troviamo anche sul nostro sito, il consigliere comunale di maggioranza di Santa Margherita Ligure, Alberto Balsi, ha deciso di costituire un gruppo consigliare autonomo chiamato Non Solo Centro. Balsi ha dichiarato di aver maturato questa decisione dopo essersi reso conto del fatto che la sua lunga esperienza politica e amministrativa rischiava di non essere particolarmente incisiva nelle scelte dell'amministrazione guidata dal sindaco Paolo Donadoni. Sono tutti giovani e pieni di entusiasmo, ha dichiarato Balsi, e l'apporto che io pensavo di poter dare spesso era visto come elemento di disturbo. Le mie critiche non venivano lette in maniera positiva, pertanto credo che la mia decisione possa favorire questa compagine di governo alla metà del suo mandato amministrativo. Alberto Balsi ha dichiarato che resterà a fianco dell'attuale maggioranza votando di volta in volta secondo coscienza ed esaminando punto per punto le pratiche più importanti come il PUC ed il bilancio. Per parte sua il sindaco Paolo Donadoni, rispettando la scelta di Balsi, ha voluto manifestare la sua stima nella certezza che il suo sostegno e il suo contributo resteranno immutati. Andrea Bernardin, consigliere del gruppo La Voce della Città, ha salutato con gioia la nascita del nuovo gruppo e si è reso disponibile ad un confronto propositivo e ad una serena analisi sui temi e di problemi che riguardano la città di Santa Margherita Ligure. Dal capoposto del nostro territorio andiamo a Moneglia. Domenica, oltre al voto sul referendum costituzionale, gli elettori monegliesi saranno chiamati ad esprimersi anche circa la collocazione del mercato settimanale della domenica, scegliendolo fra tre diverse soluzioni. La consultazione popolare di Moneglia circa la collocazione del mercato settimanale della domenica è stata voluta dall'amministrazione comunale. L'obiettivo non è promuovere o bocciare una determinata ipotesi, ma scegliere fra tre diverse soluzioni. Il mercato a Moneglia si svolge ogni domenica mattina, eccezione fatta per cinque settimane estive, in cui, per liberare almeno parzialmente le strade affollate, si preferisce spostare il mercato al martedì successivo. L'attuale collocazione sul controviale di Corso Libero-Lunghi, attaccata al terrapieno delle gallerie, utile perché permette di liberare alcuni posteggi, comporta una modifica al progetto originario di riqualificazione della zona, con la sistemazione dell'arredo urbano dal centro del controviale al lato, per permettere la sistemazione dei furgoni e delle loro strutture. C'è poi una seconda ipotesi, ed è quella di sfruttare la copertura del torrente San Lorenzo, una soluzione già sperimentata nel periodo in cui venivano eseguiti i lavori di riqualificazione del terrapieno delle gallerie e delle zone adiacenti. Questa idea, esteticamente gradevole, comporta però alcune difficoltà sul fronte della viabilità, sia per gli autobus di linea, sia per le auto, perché occupa alcuni posteggi. C'è infine una terza ipotesi, caldeggiata dal gruppo di minoranza in seno al Consiglio Comunale, ed è quella di utilizzare la piazza davanti al cinema, ovvero piazza dei caduti. Le tre soluzioni saranno riportate su una scheda, che verrà consegnata agli elettori di Moneglia, che si recheranno alle urne domenica, assieme alla scheda relativa al referendum costituzionale. Si vota negli stessi orari, dalle 7 alle 23. Alla chiusura delle urne sarà avviato lo spoglio delle schede del referendum costituzionale, così come avviene nel resto d'Italia. Al termine inizierà però lo spoglio delle schede per la consultazione circa la collocazione del mercato settimanale. E con riferimento alla consultazione elettorale di domenica prossima relativa al referendum costituzionale, il Comune di Carasco fa sapere che le sezioni elettorali di Carasco Centro, in precedenza posizionate al piano terra dell'Istituto Scolastico Valli e Carasco, da settembre 2016 sono state trasferite e sono ora in via Chiesa 6, nello stesso immobile dove assiede la Biblioteca Civica. All'indomani della giornata mondiale contro l'AIDS, che tradizionalmente si celebra il primo di dicembre, sono stati diffusi nella nostra ASL i numeri relativi alle nuove diagnosi in Liguria. Il dato statistico è in diminuzione nel suo complesso, in crescita nelle fasce d'età adolescenziali e giovanili. In Liguria nel 2016 il numero complessivo di nuove diagnosi da HIV è diminuito passando da 112 a 96 casi. Il dato ripartito per fasce d'età fa registrata una crescita nel numero di contagi dai 15 ai 35 anni, diminuiti invece i casi dai 35 anni in su. Oltre ai numeri, l'obiettivo degli operatori impegnati in questo campo nella nostra ASL è quello di dare adeguati strumenti di prevenzione. Cercare di far sì che le persone eseguano il test e siano coscienti di essere sieropositivi. Noi abbiamo cercato di estendere questo alla popolazione fornendo anche un test anonimo che può essere fatto nei CUP di Chiavari e di Sestri Levante il cui risultato viene poi fornito ai pazienti. Nel novero dei servizi offerti dall'ASL 4 un ruolo informativo e formativo importante è svolto dal consultorio che attua una prevenzione andando nelle scuole e ricevendo le richieste di delucidazione da parte dei giovani del territorio. Siamo più servizi che si intersecano e tutto il lavoro che viene svolto per l'adolescenza dai vari servizi è anche messo in rete attraverso un gruppo di lavoro che si occupa proprio della prevenzione indirizzata agli adolescenti. E come consultorio noi siamo attivi sia con lo spazio giovani che un servizio aperto tutti i giovedì pomeriggio ad accesso diretto per i ragazzi che possono venire a chiedere consulenza e in più siamo attivi con un lavoro che si svolge nell'arco dei tre anni nelle scuole medie che ci permette in qualche modo di favorire un'idea di benessere più generale di capacità di scelta e di consapevolezza di stare bene con sé e con l'altro che sono elementi fondamentali per poter anche raggiungere un benessere con se stesse e fare delle scelte consapevoli. Il Comune di Chiavari e la Comunità di Sant'Egidio hanno organizzato per domenica 4 dicembre l'incontro con Susan Bosler che si terrà alle 17.30 nella sala Ghioschiffini della Società Economica. La relatrice dell'incontro porta avanti l'impegno contro la pena di morte da quando il 22 dicembre del 1986 fu aggredita insieme al padre il reverendo Billy Bosler da uno sconosciuto. Il reverendo Bosler era sempre stato contrario alla pena capitale. Nel nome di suo padre la donna chiese ai giurati di risparmiare la vita all'assassino. Il 13 giugno del 1996 i suoi sforzi sono stati coronati dal successo e la sentenza è stata commutata in ergastolo. Moderatrice dell'incontro sarà Simona Merlo rappresentante della Comunità di Sant'Egidio ricercatrice di storia contemporanea all'Università degli Studi Roma 3. L'evento ha ricevuto il patrocinio della Diocesi di Chiavari della Società Economica e dell'Unione Europea. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in Edicola questa mattina poi ci ritroviamo con tutte le altre notizie. L'Italia non rischia questo è il titolo di avvenire sono le parole di Padoan in questa intervista. Lunedì nessun contraccolpo il ministro dell'economia è convinto della vittoria del SIA al referendum e dice bocciando le riforme si affossano le speranze dei giovani. Crescita corretta il PIL su dell'1% meno occupati. sulla scheda del Senato sono scintille tra Grillo e Renzi negli ultimi giorni di campagna elettorale poi migranti per l'ambiente le regole da cambiare saranno 200 milioni nel 2050 e poi la notizia che arriva dalla Francia e sciocca un po' tutti Hollande cede non tento il bis alla presidenza primo via libera alla legge pro aborto. e all'interno di avvenire il Papa agli studenti siate assetati di verità contro la fuga di cervelli servono valide opportunità occupazionali al centro del discorso di Francesco a educatori e ragazzi a 36 paesi la cultura come via privilegiata per lo sviluppo integrale della società. Secolo XIX l'ultima battaglia in piazza si riferisce all'ultimo giorno di campagna referendaria il sindaco di Genova annuncia voto contrario e il PD risponde pazienza non è prodi Grillo scheda falsa denuncio Renzi il premier se si perde resta la casta e poi appunto Hollande che si arrende non mi ricandido prende fuoco la raffineria non uscite di casa allarme ambientale appa via la nube arriva anche nell'Alessandrino e poi per lo sport Coppa Italia Perugia Capò Genoa agli ottavi ma contro il sortileggio servono addirittura i supplementari e a Lavagna i conti di Lavagna caso Andrangheta carcere confermato per gli indagati case di Babbo Natale boom di visitatori in riviera il business delle feste vediamo all'interno nelle pagine del Levante 6 quest'anno le alternative tra costa e entoterra andare a visitare la casetta di Babbo Natale o il castello di Babbo Natale e i comuni investono sempre di più oltre ai 60.000 visitatori del 2015 per le case di Babbo Natale allestite grazie a fondi pubblici e volontari e soluzione low cost per Avegno ha acquistato una casetta di legno del costo di 250 euro e il Babbo Natale sarà impersonato dal sindaco sempre sul secolo XIX politica amministrativa a Santa Margherita strappo in consiglio Balsi fonda un gruppo a sé l'affondo l'esperienza spesso vista come disturbo perde un pezzo la maggioranza del sindaco Donadoni che dice però spero che il suo sostegno da fuori non venga meno Bene ora andiamo in redazione come avete sentito anche dai nostri titoli oggi c'è stata la visita del ministro Pinotti allo stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso la seguita per noi Andrea Capitani che è da poco rientrato a te Andrea Sì buongiorno Emanuela buongiorno a tutti come dicevi tu oggi visita a Riva Trigoso allo stabilimento Fincantieri del ministro della difesa Roberto Pinotti che dopo essere stata a Genova è resti recata in visita a Riva Trigoso diversi momenti di questa visita all'inizio il sopralluogo su un nuovo spazio per le lavorazioni delicate ovvero la clinarea che è stata inaugurata proprio dal ministro così come è stato dato avvio ai lavori di fresatura di un blocco motore che riguarda le nuove unità che andranno a formare la marina militare italiana dei nuovi interventi previsti dalla legge navale varata nei mesi scorsi e infine un sopralluogo al cantiere proprio alla navale dove sono in costruzione ancora le tre fremme le ultime tre fremme delle commesse italo-francesi e dove poi verranno dati avvio proprio alla costruzione in larga scala di queste nove nuove unità della marina militare italiana un reparto di meccanica che è molto apprezzato sia a livello nazionale ma soprattutto a livello internazionale lo ha ribadito la stessa ministro che abbiamo appunto anche sentito dopo questa fase di accensione della fresatura che ha dato via alla lavorazione vediamo l'intervista con piacere in molti paesi del mondo in cui sono stato ho avuto da parte dei ministri miei colleghi un riconoscimento per l'eccellenza del prodotto di Fincantieri e per la qualità dell'azienda devo dire che in questi due anni abbiamo lavorato spesso insieme ovviamente è importante che per settori come la cantieristica ci sia un supporto anche nazionale noi l'abbiamo fatto investendo con la legge navale e dando quindi lavoro al cantiere ma soprattutto mettendo le basi per la nuova flotta della marina nello stesso tempo supportando l'esportazione perché ovviamente c'è molta fame di Italia nel mondo e di questa eccellenza dell'eccellenza della cantieristica c'è una richiesta particolare qui siamo nel reparto della meccanica un fiore all'occhiello di tutto il gruppo Fincantieri non solo delle stesse elevate sì un fiore all'occhiello è molto interessante perché qui appunto abbiamo la capacità di produrre non soltanto per Fincantieri ma si produce anche per altre aziende sono felice di aver partecipato questa mattina all'inizio di una nuova lavorazione una lavorazione che è di una delle navi che discendono dalla legge navale quindi da una cosa sulla quale io ho lavorato molto però la capacità di Fincantieri è anche quella di operare non soltanto sul militare sul civile quindi ha una poliedercità rispetto al settore del navale che la rende assolutamente unica dal punto di vista dell'occupazione c'è tranquillità per i prossimi 5 anni però non bisogna fermarsi no non ci fermiamo io penso che sia è un momento in cui di lavoro ce n'è ce n'è tanto chi si occupa di far andare avanti il paese diciamo chi ha una responsabilità in questo paese sa che il lavoro deve essere in cima ai propri pensieri quindi ce n'è tanto ma dobbiamo lavorare per crearne ancora un servizio più ampio nel corso dei telegiornali di questa sera ora andiamo nello studio del Buon Pomeriggio che oggi sarà condotto da Cristina Oneto a te Cristina cosa hai in servo per oggi? Sì grazie Emanuele saluto a tutti i telespettatori oggi parleremo di sanità dedicheremo uno spazio di approfondimento con ospite il presidente del comitato assistenza malattie tigurio Giancarlo Mordini e anche in riferimento alla giornata mondiale dell'AIDS andremo ad approfondire i dati che sono stati illustrati questa mattina presenteremo anche alcune iniziative natalizie in particolare l'incontro annuale dei club service che si svolge al villaggio del ragazzo nella giornata di domani lo scambio degli auguri natalizi e poi ancora parleremo di calcio con il nuovo direttivo dell'associazione italiana allenatori di calcio del Tigulio avremo uno spazio di approfondimento dedicato ai talenti al lavoro al villaggio del ragazzo i ragazzi che sono impegnati in alcuni laboratori che esplorano i loro prodotti domani proprio al cenobio dei doge e poi ancora andremo a vedere come sono le previsioni del tempo per i fini di settimana insomma tanti argomenti ci vediamo subito dopo il TG grazie a Cristino Neto il TG invece ritorna questa sera alle 19.15 con Tigulio oggi vi ricordo che trovate le notizie sempre aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com grazie per averci seguito e buon pomeriggio grazie a tutti